Abbiamo portato a casa 2 milioni e 600 mila euro, quindi sono progetti ministeriali, il Comune di Monbaroccio ha contribuito con un mutuo di 77 mila euro per la differenza tutto carico ministeriale, quindi 2 milioni e 600 mila euro che potranno intervenire sulla scuola primaria e secondaria di Monbaroccio, nonché sulla palestra comunale a Tigua. Stiamo avvaliando le delibere, stiamo portando avanti i progetti e l'appalto sarà previsto per maggio. Che tipo di interventi saranno? Saranno di efficientamento energetico e di riqualificazione energetica, nonché della sismica e dell'adeguamento sismico in particolar modo. Progetti anche per quanto riguarda Palazzo Dal Monte? Assolutamente, abbiamo portato anche lì a casa circa 60 mila euro di copartecipazione con il Ministero, 80% finanziato dal Ministero, 20% finanziato dal Comune di Monbaroccio per un progetto preliminare, 60 mila euro il contributo complessivo e l'idea è quella di presentare il preliminare entro la fine di febbraio, quindi in questo mese in corso, per poi presentare successivamente un progetto definitivo esecutivo, 120 mila euro, anche quelli di fondi ministeriali che sono tutti a fondo perduto, quindi il Comune di Monbaroccio non dovrà tirar fuori un soldo. Il progetto di Palazzo Dal Monte è fondamentale perché laddove dovessimo tenere poi da questi progetti finanziamenti vorremmo creare una sinergia fra quella che è la cultura, il sociale, l'amministrazione e la promozione delle attività produttive del territorio, tutte in un unico ambiente, laddove l'amministrazione comunale diventa veramente il fulcro, non solo in termini giuridici, ma anche in termini fisici perché diventa il cuore di queste due aree sinergiche. Anche in questo caso quindi questi interventi, che tipo di interventi saranno? Ci sono anche degli enti internazionali coinvolti? Assolutamente sì, stiamo lavorando con l'Università degli Stati Uniti, Texas, che ci ha dato il manforte per quello che è il progetto preliminare, con tutte le idee venute dai ragazzi universitari, con tutta quella che è la creatività che poteva discendere da questi, nonché la collaborazione delle professori stessi. Vediamo come si evolverà, sicuramente avere i progetti nel cassetto vuol dire avere una speranza in più per ottenere quelle che sono le risorse, intorno ai 2 milioni di euro che serviranno per ristrutturare il palazzo.